Con oltre 252 milioni di euro tra assestamento 2022 e stanziamenti per il triennio 2023-2025, di cui 233 milioni di investimenti da destinare alle infrastrutture delle marche, spingiamo al massimo i motori della nostra regione. Così l'assessore Francesco Baldelli, il quale ha illustrato le cifre che la Giunta Acquaroli investe per dare, ha detto, una risposta forte, concreta e immediata ai bisogni della regione. Lavori pubblici, edilizia sanitaria, ospedaliera, strade, ciclovie, edilizia scolastica, contributi ai comuni e rischio idrogeologico, questi sono i settori coinvolti, oltre agli interventi per progettare, completare e realizzare opere che in molti casi sono attese da decenni. Invitiamo i comuni a investire nella progettazione di qualità, perché solo con la qualità possiamo far riportare nel nuovereo delle regioni di serie A, la regione Marche, con al centro anche la provincia di Pesaro e Urbino. Dati mai visti, nei trienni precedenti all'insediamento della Giunta Acquaroli, gli investimenti in qualità e in infrastrutture erano pari a circa il 9% delle risorse libere del bilancio regionale. Con questo bilancio, soprattutto con gli investimenti in infrastrutture, siamo arrivati al 24% di risorse della regione Marche investite sia quantitativamente nelle infrastrutture che qualitativamente, fino ad arrivare a punte del 30,33% nel 2025. Questo processo virtuoso di rilancio della regione Marche, ha proseguito Baldelli, lo vogliamo incrementare anche nei prossimi anni. Investimenti in edilizia sanitaria e ospedaliera e questa provincia viene premiata per rinnovare delle strutture, permettetemi di dire, trovate in condizioni di vecchiaia incredibile. Vecchiaia significa che sarebbero infrastrutture che di fronte ad una crisi sismica importante non sarebbero utilizzabili per soddisfare il fabbisogno dei nostri concittadini. Non solo il nuovo ospedale di Pesaro di cui si parlava da decenni, un ospedale non più unico, tanto che ad esempio nella città di Fano avremo oltre 30 milioni di investimento per l'ospedale Santa Croce, la nuova palazzina delle emergenze e urgenze tecnologicamente avanzata, ma anche l'ospedaletto che ospiterà l'ospis e io spero anche la casa della comunità per investimenti superiori ai 7 milioni di euro. Sempre in ambito sanitario rientrano la palazzina per l'emergenza urgenza di Urbino, l'ospedale di comunità di Monbaroccio, la ristrutturazione complessiva del nosocomio di Pergola, il potenziamento dei servizi di Sasso Corvaro e il nuovo ospedale di Cagli. Non dimenticando anche un intervento che dovrà essere messo in cantiere, la ristrutturazione e nuovi servizi anche per l'ospedale di Fossombrone. Poi le ciclabili, dalla ciclovia adriatica arrivando alla ciclovia del Metauro, la ciclovia del Foglia e la ciclovia del Cesano, ma anche infrastrutture stradali importanti che faranno non solo la fortuna dello sviluppo economico della Valle del Metauro, del Cesano e del Foglia, ma che saranno un traino per la nostra intera regione.